Ciao a tutti amici e bentornati nel mio canale! La proposta di oggi è una congettura con nodi molto elegante e particolarmente indicata perché ha i capelli lunghi. Prendiamo due ciocche laterali e le leghiamo insieme in una coda nel retro della testa. Prendiamo altre due ciocche, le leghiamo sopra la prima coda e allarghiamo le varie sezioni. Ripetiamo questi passaggi per tutta la lunghezza dei capelli. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.